E' una partita un po' nervosa, praticamente ci siamo picchiati, possiamo dire che è stata nervosa, l'arbitro un po' di scelte, però alla fine abbiamo vinto. Scusa se non te l'ho chiesto, risultato finale? 4-2, penso. Spero. Se non mi ricordo male... Se non mi ricordo male... Se non mi ricordo male questa è la terza partita consecutiva che vincete. Posso dire parole? No, è un'ottima iniezione di fiducia per puntare ai play-off. E adesso io concluderei con gli auguri di Buona Pasqua. Certo, dove sono tutti gli altri? Raga, gli auguri di Buona Pasqua! Raga, gli auguri di Buona Pasqua al CSI e ai nostri amici da Cutrone. Merde! Raga, gli auguri di Buona Pasqua al Cattolo. Lui ricordo. Raga, gli auguri di Buona Pasqua.